lunedì 23 maggio 2022 buona giornata amici ascoltatori e buon inizio settimana il sole questa mattina è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.35 questa è la rassegna stampa di Fano TV leggiamo insieme i giornali vediamo quello che è accaduto nella giornata di ieri a partire dal Corriere Adriatico e poi il resto del Carlino ma oggi inizieremo con un argomento particolare quello dello sport perché siamo a fine del campionato di calcio e vedremo come è andata per le squadre locali vediamo il santo del giorno nel frattempo e vediamo che oggi si festeggia San Desiderio di Langer fu vescovo fu vescovo quando i vandali invasero la Francia era intorno al quinto secolo i vandali arrivarono appunto in Francia un po' in tutta l'Europa anche in Italia addirittura si estesero in diversi paesi europei saccheggiando città e villaggi Desiderio cercò di mitigare la violenza ma fu ucciso appunto dai barbari nel 407 e poi c'è un altro santo di nome Desiderio fu vescovo di Vienne nel Delfinato visse 200 anni più tardi e fu ugualmente ucciso per avere rimproverato la condotta dei potenti quella volta insomma si andava abbastanza per le spicce comunque festeggiamo sia l'uno che l'altro San Desiderio ed ora diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo ecco la grafica vediamo come nella regione un po' è la fotocopia dei giorni scorsi sole con qualche velatura di nubi un avvio di settimana ancora estivo in tutte le marche con cieli sereni o velati e temperature oltre le medie le massime arriveranno a 32 e 33 gradi nelle ore più calde della giornata i venti ispireranno sulle coste da una direzione di sud e sud est mentre all'interno da sud a ovest insomma abbiamo una brezza che è piacevole al mattino ma non tanto perché già nelle ore fresche quelle quelle prime quelle dell'alba è già fa caldo quindi insomma la temperatura è alta è estiva dicevo che cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dallo sport oggi e vediamo il titolo che campeggia sul corriere adriatico il fano va ai play out nonostante abbia ottenuto un buon risultato nella gara contro il porto d'ascoli il risultato è stato 2 a 1 i granata vincono al riviera con il porto d'ascoli ma non basta per la salvezza diretta domenica prossima ci sarà una nuova partita con il castelfidardo al mancini quindi si gioca in casa ma basterà soltanto non perdere insomma si dovrà soffrire ancora come recita quest'altro titolo il vice allenatore del fano fiscaletti dice ragazzi hanno fatto il massimo ma non è bastato russo un po ci avevo sperato quando è giunta la notizia del pareggio del tolentino ma insomma questo non è bastato vediamo anche come riporta la notizia il resto del carlino l'alma vince ora c'è comunque l'atto finale porto d'ascoli già salvo e senza nulla da chiedere il granata guardano al confronto con il castello insomma abbiamo ancora una partita da soffrire magari sperando di sollevare l'entusiasmo dei tifosi e soprattutto i tifosi del milan ieri hanno giuito hanno scorazzato con il clacson per le vie cittadine fumata bianca milan campione intitolano le prime pagine dei giornali perché il milan ha vinto il campionato ed ora passiamo alle notizie invece di carattere generale di carattere locale vediamo la prima pagina del corriere adriatico per quanto riguarda fano ed è una pagina dedicata all'olio perché ieri e nel città anzi nel fine settimana e nel città si sono così organizzate diverse iniziative per valorizzare l'olio extravergine di oliva abbiamo le premiazioni della del gran gala dell'olio che si sono svolte sabato scorso nella pinacoteca di san domenico con la presenza dei produttori migliori a livello nazionale e anche livello internazionale perché si davano anche i premi dell'oro del mediterraneo non solo dell'oro d'italia ed erano presenti delegazioni che venivano dalla croazia dalla grecia dalla spagna e per quanto riguarda l'italia un po da tutte le regioni ovviamente quelle che producono il l'olio o in grande quantità sono la puglia la campagna insomma un po tutte le regioni olivicole del territorio nazionale ma anche la nostra il nostro territorio si è fatto sentire perché ieri si è svolta anche una bella iniziativa olio dop identità del territorio a tavola anche storia e cultura e c'è stata una conferenza stampa organizzata nel contesto di Expolea che poi è stata la mostra dei migliori oli che è seguita alle premiazioni di sabato scorso una mostra che è stata inaugurata ieri mattina al Pincio con tanti box che esponevano i migliori oli appunto del territorio ma questo è il territorio nostro è il territorio costituito dai comuni di Cartoceto, Monbaroccio e Colli al Metauro che messi insieme hanno organizzato una serie di iniziative che si chiama Conterranea sono tre iniziative la prima è stata organizzata per sabato 11 giugno a Colli al Metauro la seconda a Monbaroccio nel giardino di palazzo Guidobaldo del Monte quella invece di Colli al Metauro si terrà al museo del Bali sabato 11 giugno a partire dalle ore 19 la terza invece il 9 luglio a Cartoceto sulla scia della spiritualità nel Belvedere di Piazza Marconi insomma menu dove l'olio DOP quello migliore quello più sapido quello più salutare che viene ricavato dal nostro territorio nei nostri produttori olivicoli insomma condirà darà più sapore a tutti i prodotti del territorio olio DOP identità del territorio e passiamo alle altre notizie vediamo come una notizia confortante di cronaca ci propone il Corriere Adriatico il bambino adesso sta meglio è quel bambino che ha sbattuto la fronte contro un mobile e insomma era risultato piuttosto grave ai primi soccorritori insomma sembrava in stato comatoso invece si sta riprendendo sollievo per l'intero quartiere a pressione a santosso per il piccolo di un anno e mezzo infortunatosi a casa aveva sbattuto la fronte contro un mobile ed era stato trasportato in volo con l'eliambulanza all'ospedale pediatrico salesi di Ancona e poi sabato sera si è tenuta anche l'assemblea della cooperativa tre punti un anno quello del 2021 non facile appunto da condursi a causa della pandemia ma ora si riprende si riprende alla grande è nato un programma di eventi per il 2022 che è stato esposto appunto dall'assemblea che fa il contraltare ma poi si integra con quello programmato dall'amministrazione comunale un palinsesto dunque che affianca quello del comune ricco tanto ricco di eventi ebbene ci sarà una stagione intensa alla bcc arena di commedie dialettali ben 11 compagnie di danza effettueranno i loro saggi tra giugno e luglio e poi la festa della crescia matta che ritorna in tutte le sue giornate dal 22 al 24 luglio e poi il cinema all'aperto la musica i concerti dal classico al pop e poi la collaborazione della cooperativa tre ponti con la proloco per l'organizzazione di grandi manifestazioni come la fano di cesari che quest'anno si riapproprierà come abbiamo visto nei giorni scorsi della corsa delle bighe ed in gir per fan un'iniziativa che consente ai turisti di conoscere le attrattive culturali del nostro territorio insieme a quelle gastronomiche e veniamo ora nell'entroterra a terre roveresche marcucci promette una svolta si parla di campagna elettorale campagna politica perché appunto tra poco ci saranno le elezioni in terre roveresche e marcucci è il capolista della lista condividiamo ed è candidato sindaco ovviamente rigenerazione prossimità autenticità e cura della persona sono i pilastri del suo programma elettorale marcucci ha in cantiere diverse iniziative ne vediamo qualcuna il prolungamento dell'orario scolastico per aiutare le famiglie l'attivazione del consiglio comunale dei ragazzi poi ridare vitalità ai municipi con la fondazione its ovvero l'istituto tecnico superiore per la formazione specialistica dei giovani vogliamo a detto redigere i piani particolareggiati dei centri storici primo passo per il nuovo piano regolatore generale del comune e ancora grande attenzione al mondo dei giovani con l'istituzione della consulta giovanile e delle associazioni del territorio insomma il giorno dopo giorno i giornali evidenziano le prospettive i programmi dell'una e dell'altra lista elettorale bronzi dorati obiettivo 12 mila visitatori all'anno in programma è l'apertura della sala risorgimento e della sezione valentini il museo dei bronzi dorati sta vivendo veramente una nuova rinascita sono queste le parole dell'assessore ciro mariani che è intervenuto per evidenziare gli ottimi risultati raggiunti in termini di presenza e di visibilità appunto dalle attrattive turistiche e culturali di pergola ebbene a fine estate ha detto mariani ci sarà la presentazione degli atti del convegno per quanto riguarda appunto i bronzi con una tavola rotonda a cura del lions club e poi ancora sarà aperta per quanto riguarda il contributo alle ricerche dell'accademia degli immaturi di pergola la sala del risorgimento a breve verrà inaugurata inoltre una sezione dedicata al compianto maestro pergolese noto in tutto il mondo walter valentini fumata bianca per il direttivo della proloco di san costanzo c'è l'ex sindaco ferretti ve lo ricordate domani sera il presidente il direttivo c'è adesso manca appunto il presidente chi succederà si chiede il giornale amoris canestrari ebbene è arrivata la tanto attesa fumata bianca che segna l'accordo all'interno dell'assemblea dei soci della proloco di san costanzo l'associazione che ha preso incarico nel corso del tempo numerose iniziative di san costanzo compresa la sagra della polenta che è un po la porta bandiera delle iniziative gastronomiche promozionali appunto del comune per i soci volontari dell'associazione una boccata d'ossigeno dopo settimane passate in bilico e a questo punto diamo un'occhiata anche la cronaca di ancona perché c'è un veramente un fatto di cronaca drammatico un tragico arrivo della due giorni una gara ciclistica che purtroppo si è conclusa con un terribile incidente un ciclista cadendo ha investito e ucciso un ds sciocca a castelfilardo nicola venchiarrutti grave in ospedale cade era lui ciclista cade e travolge il direttore sportivo stefano martolini per quest'ultimo purtroppo non c'è stato nulla da fare è caduto nell'asfarto ha sbattuto violentemente la testa il suo corpo insomma contro il pavimento e purtroppo è deceduto insomma veramente una disgrazia inconcepibile purtroppo l'evento e il destino dichiara anche questo e veniamo al resto del carlino caro gasoglio caro gasoglio pescatori sul filo dello sciopero intitola il giornale è un problema questo che interessa un po tutta la regione ma interessa in modo particolare fano e pesaro oggi ci sarà un incontro con un esponente del governo per evitare uno stop di sette giorni già la marineria era in difficoltà era in crisi era in agitazione nei giorni scorsi aveva minacciato uno sciopero generale generale anche marchigiano che poi era rientrato insomma si cercava di sopravvivere perché veramente l'aumento delle fonti energetiche in questo caso il gasoglio era diventato insostenibile insomma non si faceva più pari il pescato non ripagava le spese per condurre i pescherecci in mare più che ai rimborsi le flotte puntano al credito di imposta insomma non serve un migliaia di euro una tantum per risolvere il problema occorre avere un sostegno più duraturo più prolungato nel tempo comunque si decide oggi dopo un incontro con un esponente del governo se si farà lo sciopero per un'intera settimana oppure no e motopesca di altura e non solo del compartimento di pesaro ma poi anche di tutto il resto della regione e troveranno il modo e le ragioni per decidere perché il nodo è quello di qualche mese a questa parte ovvero il caro gasolio perché un grosso motopesca consuma nei quattro giorni di pesca alla settimana circa 4500 litri di gasolio di carburante quelli un po più piccoli arrivano sui 3500 pensate quanto costa il gasolio anche se per la pesca il prezzo è diverso da quello sulla strada comunque le dichiarazioni di tonino giardini che è un po il portabandiera il quello che comunica le istanze del mondo della pesca insomma a livello nazionale e a livello locale dice che la situazione si sta sta diventando sempre più precaria e insomma questo settore dell'economia che una volta era importantissimo era uno dei primari dell'economia comprensoriale e soprattutto fanese ora veramente sta toccando sta aggiungendo alla frutta e c'è poco e c'è poco ormai da mangiare la concorrenza dall'estero se noi incrociamo le braccia si rivolgono a loro dicono anche i pesci vendoli perché se poi nei banchi del mercato non c'è il pesce locale si prende quello congelato oppure quello che viene da altre località da altri mari a maggio nevica si è la neve di maggio quella della lanugine dei pioppi una sostanza bianca che alleggia nell'aria fastidiosa si attacca un po dappertutto si ammucchia nei giardini sopra le auto sulle scalinate delle case insomma veramente la neve d'estate è un problema per diverse località e lo è in modo particolare per viale marconi a pesaro ci sono state a questo proposito telefonate di protesta da parte dei residenti di questa arteria perché la lanugine dei pioppi sta invadendo tutto e questo accade raccontano appunto al telefono gli abitanti perché non si fanno più le potature ogni due anni come si è sempre fatto in passato due chilometri circa di auto nella statale adriatica tra fano e pesaro assalto alla statale però nessuna multa nella giornata di ieri ieri si trovava invasa l'arteria dalle macchine nel tratto peso rifano ma le uniche auto che potevano parcheggiare erano quelle lato monte in realtà le marche le le macchine erano sia di qua che di là e passare bisogna passare a passo d'uomo perché era molto alto il rischio di provocare degli incidenti veniamo alla cronaca un successo per gli inquirenti hanno un nome i picchiatori del campus lo vediamo qui in questo articolo una delle vittime ammette il debito di droga ebbene si tratta di un diciannovenne ferito più lievemente dell'altro di 16 anni sono due ragazzi che sono stati picchiati da una banda di nigeriani e marrocchini che veramente ne hanno date di sana pianta appunto a questi due giovani ebbene sono stati identificati e denunciati i componenti della banda autrice della spedizione punitiva tutti hanno un volto è un nome e la mattina di sabato scorso al campus scolastico hanno assalito e malmenato i ragazzi e due ragazzi di età dai 17 ai 20 anni il primo a essere picchiato è stato un italiano appunto tra i 16 17 anni anche se non originario di pesaro è uno studente dell'ipsia benelli intorno alle 10 30 cioè al momento della ricreazione il secondo un diciannovenne studente dello scientifico è stato colpito prima all'esterno della scuola poi addirittura all'interno delle auto sembra che le botte siano state originate da un debito di droga che doveva essere pagato insomma ora però con grazie alle testimonianze gli inquirenti sono riusciti a identificate a identificare gli autori di questa spedizione punitiva e speriamo ha detto alla preside del benelli anna maria marinai la vediamo qui in questa fotografia che non siano i miei allunni quelli della gang la preside del benelli appunto spero che non spunti nessuno dei miei ragazzi certi fatti vanificano gli sforzi di anni e qui non ci sentiamo più sicuri ha detto tavola storie musica e questa la strada dell'olio anche il resto del carlino interviene sulla giornata sulle fine settimana dedicato all'olio a fano conterranea presenta il format tre cene gourmet e tre eleganti concerti in altrettante incantevoli location che sorgono in tre dei quattro comuni della reale all'unica dopo le area marchigiane dicevo prima colli al metauro mombaroccio e cartoceto l'altro comune quello di fano sì perché anche il territorio di fano ha una vasta area appunto del proprio territorio comunale in cui rientra la doppia di cartoceto una doppia che dovrebbe essere valorizzata ancora di più di quanto si sta facendo perché veramente contrassegno un olio di grande qualità un olio con dei pregi di tipo organolettico eccezionali e a questo proposito non si è dimenticato nell'ambito di questa manifestazione dedicata all'olio di sensibilizzare la cittadinanza soprattutto per quanto riguarda i prezzi stracciati praticati da alcuni supermercati ipermercati che in realtà non contrassegnerebbero un olio di grande di grande qualità ovviamente quest'ultima costa e quindi qualche euro in più bisognerebbe essere disposti a pagarlo appunto secondo ovviamente gli intenditori dopo 65 anni di matrimonio una rampa di scale gli impedisce di visitare la tomba della moglie sta accadendo nel cimitero di rosciano bellocchi dolore che si aggiunge al dolore muore la moglie a 90 anni e il marito che ne ha 92 non può portarle nemmeno un fiore sulla tomba perché è seduto in una sedia a rotelle e non può discendere la scala vediamo qui qualche accenno appunto di questa scala questo il figlio che la mostra per giungere nei sotterranei dove è riposta la tomba della moglie si tratta di Iolanda Falcioni deceduta appunto a 90 anni due rampe di scale che diventano una barriera insormontabile per libero tonucci 92 anni da qualche tempo costretto come abbiamo detto su una sedia a rotelle il padre mio padre riferisce il figlio Graziano che ha 56 anni dice non gliela fa a camminare con le proprie gambe né io posso sobbarcarmi il peso di portarlo in braccio ogni volta che deve scendere le scale per raggiungere la tomba di mia mamma per cui invita il comune a risolvere il problema sì lì c'è un montacarichi ma serve soltanto per la discesa del bare e non per le persone e quindi l'eliminazione delle barriere architettoniche in una struttura di grande rilievo sociale come un cimitero dovrebbe essere uno dei primi provvedimenti ad essere assunto we nature cala il sipario nel 2023 anticiperemo l'inizio si è conclusa la manifestazione di cultura ambientale svoltasi sul colle di san bartolo e ora cater raduno e ulisse feste altri due grandi iniziative che possono attrarre persone con una una spiccata sensibilità ambientale appunto su questi meravigliosi paesaggi delle alture pesaresi we nature chiude i battenti il festival dedicato ai temi dei cambiamenti climatici e dell'impatto sugli habitat naturali chiamando in causa anche i comportamenti consapevoli dei cittadini ha chiuso ieri la due giorni svoltasi sia sul san bartolo che in modo particolare sul colle a fiorenzuola di focara e qui abbiamo l'articolo di ancona anzi di castelfidardo che riguarda l'incidente che si è verificato appunto al termine della gara delle trofeo città di castelfidardo muore travolto da ciclista vediamo qui il giovane atleta che è caduto il ciclista e qua la vittima stefano martolini investito appunto incidentalmente ovviamente durante le fasi finale della corsa è stato travolto e quindi è deceduto e abbiamo concluso con questa notizia purtroppo non certo piacevole la nostra rassegna stampa a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno e invece per quelle di oggi vi do appuntamento alle ore 20 30 con il tg di fano tv occhio alla notizia condotto da simona zonghetti questo è tutto per il momento a risentirci